Siamo qui a Cisi, il sottotiro di Cisi è naturale e bello per voi. Cos'è il formaggio naturale? Il formaggio naturale è quel formaggio che ha una certa consistenza, né molle né duro, è un odore che secondo me non deve essere troppo impregnante, ma nello stesso tempo neanche proprio inodore. Come quello sintetico. Sì, più o meno, alcune volte deve avere i buchi, altre volte no. Li possiamo fare anche i buchi. Per me il formaggio naturale è quello, io sono vissuto da piccolo in campagna, che faceva la pastora con le sue mani, con tutte le mosche che arrivavano a mangiare, quindi era naturalissimo. Perfetto, più naturale di così. Quello più buono, è quello più buono, più buono, più buono, più buono, più buono, mi piace. Quello più naturale per me è quello più intollerante all'uomo perché io sono intollerante ai latticini. Ah, stupendo! Grazie a tutti!